Ciao a tutti amici amici di Andrew Channel, benvenuti ad un nuovo episodio dedicato a Cos'è la Kings 2. Questo è il primo episodio che gioco sul mio PC fisso, ho trasferito il salvataggio della portatile. Spero che questo non vada a creare dei problemi in termini di registrazione, qualora fosse il caso poi sistemerò. In questo video devo fare due cose. Prima ringraziare Gios, o Joss, non so come pronunciarlo, perché dall'episodio 1 mi stai dando veramente dei consigli fantastici. E quello che adesso metteremo in atto, proprio perché questa è una partita interattiva, è il complotto di Gios, lo chiameremo, o di Gios. Mi piace di più Gios perché è più greco come nome. Il complotto di Gios consiste nell'assassinare il Liut Brando ad Albertingi affinché gli eredi di Luca e Alberto II di Corsica vadano a Teodata in eredità, quindi la contea del Friuli, della Corsica e del Cismonte. Però che cosa succede? Ecco, controllato, c'è anche un Helchen ad Albertingi. Helchen ad Albertingi è una cortigiana ad Albertingi di 4 anni. Allora, per iniziare, io comunque il tentativo di assassino lo voglio fare comunque, voglio fare un plot to kill su Liut Brando ad Albertingi, che è esattamente il primo... Adesso sto provando a vedere se ci sono potenziali alleati. Quindi, beh, Helchen stessa, Helchen di Capua, accetterebbe. Ah, ma questa è un Helchen ad Albertingi a sua volta. Credo che sia lei effettivamente l'erede. Ok, se io inizio a spendere e spandere 15 più un altro 25 mi porto a 40 e quindi andiamo a 75. Devo spendere veramente tantissimi soldi per ottenere supporto, ma lo posso ottenere. Ok, allora, facciamo una cosa. Prendiamo lo Spymaster, che adesso sta ad Ancona, e mi va a fare uno Spynetwork in Corsica. Ok? Poi prendiamo il Cancelliere, che al momento sta facendo i claim a Pisa, li mandiamo a Pavia, perché ho deciso che anziché dichiarare l'indipendenza, tenterò di dichiarare la volontà di diventare l'Era d'Italia. Quindi devo iniziare ad avere claim, non so se ce la farò, però vedremo. Abbiamo 4 claim leggeri, che però, a parte Salerno, di Cadwar da Uffingi, Salerno è questa. Potrei attaccare Salerno, vediamo dove è Cadwar. Vediamo, eh. Cadur da Uffingi. Cappellano di Urbino. Ah, avevo già guardato questa cosa. Lasciamo stare. Togliamo la pausa? Un titolo può essere creato, il Ducato di Ancona, per ora no. Un bimbo a Missinguardian. Daremo noi stessi a Gundo. Ah, questo è il Gundino. Diamo Gundo a Gundo. Il Gundino è il figlio di Gundo Teodinji e di Rotrude. Suo padre sarà il guardiano. Eh, ci è morto il cancelliere. Che palle. Diplomazia 25. Peter, Cappellano di Corte di Mantua, 20 in Diplomazia. E ha anche delle buone relazioni con noi e ha... E ha claim sul Friuli. Ok? Invitiamo la Corte. Ermengildo di Veglia, un 18. Ha claim su cosa? Su Torres. Questo su Padova e Parma. Iernerius. Anche lui non è male, se devo essere sincero. Prendendo Iernerius e trasformandolo in un mio... Vassallo, poi potrei prendere Padova e Parma come claim. Però Padova e Parma fanno parte della Corsica, che vorrei prendere in altro modo. Quindi, niente, ci pigliamo questo vecchietto. Il Vescovo Ursus, che adesso diventa il nostro nuovo cancelliere. Il Vescovo Pietro, scusate. Non so perché ho detto Ursus, perché l'ho visto qui. Visigata di Otevingi è arrivata a Corte. Peter è arrivato a Corte. Ah, perché Ursus se n'è andato. Ok. Niente, abbiamo un Bishop di Prato che ha 21 in Learning, quindi pure meglio. Lo mettiamo a fare la Religious Relations con il Papa. Tu vai a fare i Claim dal tuo Sovrano. 19% all'anno. Tudiamo la pausa. All'Handed Zone, Gund e Ovidu non hanno terre. Possiamo creare dei titoli, ok. Gund e Ovidu non hanno terre. Noi abbiamo un Dominio di 3 Noni. Sono di 3 Quinti che di 3 Noni, ma che cazzo sto a dire. Ah, una cosa che non ho fatta e che faccio immediatamente. Abbraccia la cultura italica. Allora, facendo questo, Rotrudo, Albino, Gundo, Zucchilo, Gundo, Anza, Vido e Teodico il Monaco diventano italiani. Non sono più Longobardi. Quindi questo è un momento molto importante perché accettando la cultura italica, di fatto accettiamo, cioè cambiamo cultura. Non siamo più considerati Longobardi, ma dopo tanto tempo e tanta, come si può dire, integrazione, abbiamo creato la cultura nostra italica, ok. Allora, Firenze alle nostre mani. Orvieto in mano al Conte Adabaldo di Orvieto. Urbino, Ravenna, Bologna, ancora. Devo fare semplicemente, devo conquistare oppure espandermi e assegnare i miei figli del territorio. Qualcosa di questo tipo. Andiamo a vedere sulle leggi. Gundo, Teodinji, Genio, dovrebbe essere il nostro futuro leader. 16, 13, 12, 9, 9. Genio, ma insomma. Mio figlio, Lupo, mi ha chiesto di spendere della quality time, va bene? Stai col figlio Lupo. Il fatto è che io ti dico il Monaco, ragazzi, sta campando un sacco. Cassi tanquassuita. A ventivoglio. No, lasciamo perdere. Intrigo. 44%. Il Monaco adesso cambia da Stewardship a Intrigo. Perché questo ci aiuterà nel perseguire il nostro schifosissimo piano. Infatti andiamo a 55%. Iniziamo a prendere chi ha il plot power più alto. Partendo da Raktis. Vediamo se... Greedy, Wrote, Proud, Lust, Fool, Temperate. Send Gift. 18, vai. Raktis adesso dovrebbe far parte del complotto. Molto bene. E questo ci porta a 69. Già solo con una persona. Gata, Cortigiana di Corsica e Gridi. Invidiosa, arbitraria, ambiziosa, gregaria. Ok. Lei mi va bene. Send Gift 15. Questo è molto buono. E chiediamo di riunirsi a noi. Siamo all'81%. Magiluf, il Vescovo. Anch'esso dovrà far parte di questo complotto. E con questo dovremmo avvicinarci al 100%. 94, ottimo. Ci manca ancora qualcuno. Lydolf, il Conte di Verona. Proud, Gluttonous, Lothful, as Great Pogs. Integra Webweaver. Questa mi piace. Send Gift. E con questo superiamo il 100%. Dai! Kill, l'Utran, Adalbertinji. 106. E adesso aspettiamo. Adesso portiamo pazienza. Ok. Che cosa possiamo anche fare? Titoli minori, li abbiamo già detto. Lasciamo perdere. Torniamo un attimo ai Vassalli. Devono avere tutti una buona relazione con noi. Guardate che relazioni meravigliose. Cioè, ci sono delle relazioni fantastiche. Lungo Regno. Cioè, veramente. Prestigio. Gata Daufinger ha fatto sapere a tutti che vogliamo uccidere Liut Prand. Brutta testa di cavolo. Posso farla fuori? Autoinvita tutti adesso. Siamo stati scoperti, quindi... Merda. Quanta pazienza. Questa cosa mi... Veramente mi fa venire l'orticaria. E adesso saremo conosciuti da tutti come degli assassini. Liut Prand. L'Ish è un ambicolio. Ok. Io per adesso non vedo... Mi prendo un Vassallo, il Conte di Ravenna. Vediamo che relazioni ha con noi. Small Feud Attacks for Rainier, meno 5. No, sembrerebbe... Sembrerebbe che non ci siano delle grossissime... problematiche. Ok, è nata Rotruda e Lexinghi... Vabbè, è nata una figlia. Guido è sposato, sì. Albuin non è sposato. Gundo è stato... Aspetta, 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 aspetta. È stato trascinato. Ah, praticamente la moglie di Gundo l'ha tradito. Veramente. Rotrude. Che anche lei è un... Al tratto strong. Che volevo che trasmettesse ai figli. Sì, ma avete figli perché... Sì, ne hanno... Uno, due, tre... Sì, la rinchiudiamo, va bene. Gundo purtroppo ha il tratto Brave, ma non ha il tratto del padre Genius. Zucchino nemmeno. Eh, nemmeno Rotruda. Praticamente ho perso i tratti Genio. Ah no, aspettate, Giuditta. Giuditta è nata con il tratto Genio. La nostra moglie. La nostra figlia. Atenuf di Spoleto, adesso è un Fortune Builder. Il nostro nipote, figlio di Anza. È un di Spoleto perché chiaramente Anza è sposata con Luca... Adrad di Alsazia che è morto. Ok. Oh no! Anzi, è se è addirittura malata. Ducato d'Austria? Ich spreche Agilolfling. Scusate un attimo, ma... Ducato d'Austria è abbastanza grande, no? No, sono soltanto due. E sono abbastanza lontani. A me fa sempre un po' paura, ma forse perché sono abituato ad Europa Universalis, attaccare stati lontani su cui poi non ho il controllo e non riesco a difendere. Cioè, avere del territorio qui metterebbe la noia di avermi difendere da, ad esempio, Vass. Insomma, dagli Slavi qua attorno. Quindi non voglio fare nessun pressing o niente. Adelgrima, adesso guida la rivolta lombarda, ok. Un segreto sporco, ok. L'artist di Mantua ha accolto a Visganda infragante. Chi è Visgarda? È la moglie di Peter. No. Ma... Forgive and forget, non ne fai che niente. Va bene. Andiamo a Spoleto, voglio vedere che cosa si può costruire. In realtà nulla. A meno che non possa costruire... Tempi, un castello, no? Ma che... Lo streaming ground vi sta già facendo nelle varie cittadine. Andiamo a Firenze. Castle walls for level tax income, militia training. Facciamo le mura del castello che migliorano anche un po' i soldi. E anche a Bologna. Ah, posso potenziare le fortificazioni... Ma sì. Potenziamo le fortificazioni di Bologna. Continuiamo a costruire e a migliorare. Allora, sembra che il sindaco Grasulfo di Piacenza, Spymaster da Redesiderio III di Lombardia, è stato mandato a Pavia per investigare rumori di una congiura. Ma forse potremmo... Ah, potremmo metterlo in silenzio prima che scopra che sta cercando di essere senale e li otterrando dal Bertingi. Better not risk it. Tanto si sa già. Ragazzi, in Corsica posso prendere una Rumertruda pagandola e la piglio immediatamente. e mi porta, vediamo a quanto... 137% il complotto per far fuori la dinastia Corsa. Quindi prendo il controllo di Parma e del Veneto anche. Non male. Attenzione perché un messaggio di un guardiano, aspetta... Teodico voglia... Allora, il nuovo re... Desiderio III. Vuole che il principessino Culfo di Lombardia diventi guardiano di Gundo, Teodinji. Ma Gundo è il piccolino che adesso è... Va bene. Ma va bene, chi se ne frega. Beh, se... Ah, Zucchilo invece... Il re desiderio vuole diventare il guardiano di Zucchilo. Non so se è una cosa... Se ho fatto una cosa giusta in realtà, ma... Praticamente adesso i guardiani di... Dei figli del mio erede sono i sovrani di Lombardia. Boh. Ok, fermi perché mi sta schiattando tutto. La Ducasse dei Chiesa di Spoleto è morta. Qualificazioni. Akakius è morto. Alberico è arrivato a corte. Emanuele è arrivato a corte. Bla 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 bla. Erwin Freud e Stuart in Istria... ha un 22. Mi piace. Lo invitiamo a corte. Lo appuntiamo come steward. e magari gli diamo anche un titolo perché è chiaramente la ragazza abbastanza scoglionato. cupbearer e amico mio, ti devo anche dare del denaro perché sennò... se no... E fammi vedere, visto che fa un po' pietà, gli devo chiedere una conversione religiosa. Devo chiedergli una conversione religiosa perché è un eretico. e avere uno steward eretico forse non è il massimo, però intanto... intanto ce l'abbiamo. Olderic adesso è in Liga League. Tiftiftter Clerk. Ok. Una claim. Isperic... E questo è quello che è claim sull'Austria. Trasformare Isperic in un... Ah, non so, non so. Arezzo e le mura. No, ritorno al discorso che ho fatto prima. Cioè, non voglio in Steimark e in... Cos'è questa? Österreich. In Austria. Per le autore di palle. Oh no! Siamo diventati Craven. Siamo diventati dei codardi. Sentite, ma siamo anche dei 61 anni. Non si può schiattare che c'è un figlio abbastanza buono. Gundo, cazzo. 33 anni. Sarà anche il caso che diventi il nostro... Legittimo sovrano o sbaglio? Siamo 4 a 1. Vediamo se possiamo far passare altre leggi. No, direi più in un momento di no. Tanto il nostro Marshall, benissimo. Anche Cappo ha in mano la Corsica. Ragazzi, la Corsica sta facendo veramente fuoco e fiamme. Se più volessi dichiarare guerra, dovrei dichiarare guerra i bizantini, vero? Ah, 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 ah! Ragazzi, sembra che qualcosa si stia muovendo qui sul... Sul complotto di prendere il Vertinge. Vediamo. Fallimento! Il plot è stato rivelato e anche il nostro nome. Ops. Fermi tutti! Red desiderio di Lovardia ha creato il titolo di Regno di Sardegna e Corsica. Ma che cazzo sta succedendo? Duca Rodolfo di Sardegna. Duca Alberto di Corsica. Ah, perché Corsica è sotto la ribellione. Ok. Successo. Ljotrand è morto in una esplosione, ragazzi. Ljotrand è morto. Adesso, se andiamo in Corsica, abbiamo Adalberto, che ci odia, e Teodota d'Albertingi, che è la moglie di un nostro figlio... Sì, che è erede, Teodota, ed è la moglie di Guido. Il punto è che Guido avrà dei figli da lei, che saranno dei Teodingi. E quindi, fra due generazioni, i Teodingi saranno sul Ducato di Corsica, come era Mocadetto. Perché Gios me l'ha spiegato bene. Spero di aver capito. Ok, Grasut ha accettato la rivolta Lombarda. Ma niente, ragazzi, qui c'è un'altra rivolta in corso. Il Ducamartino di Pisa sembra che sia completamente per i fattacci suoi, comunque. Ah, perché siamo già in guerra contro di lui. Non so se sta facendo una cosa giusta, ma vediamo. Voglio vedere se riesco a... Sì, riesco. Era una cosa che potevo fare prima, praticamente ero in guerra e non la stavo sfruttando. Posso aiutare il mio signore assediando Pisa. Tanto loro mi stanno assediando Fiorenze. Lorenzia. E noi... vabbè. È un po' una gara abbastanza da unipari. Strano perché Pisa mi sembra più piccola, invece... Forse ha dei... ha dei mercs. Forse ci sono dei mercenari, io lo so. Uno ha accettato la Pisa del... Andar via. Tanto noi facciamo cadere Pisa così il nostro sovrano sarà contento, immagino. Cosa vuole adesso? Mi sta praticamente dando i... i guardiani e tutti i figli che io non sto... che non sto cagando. Ok, tra Gundern or Thule è nato la Alaxigling, che non è genio, mannaggia. Ma questa però è... non è puro sangue. Dove d'Orvieto? Ah, mi hanno assiato Orvieto, ammazza. Ok, c'è uno scontro. Attenzione. C'è uno scontro però non è a darmi pari perché il nemico è superiore a me. È vero che io sono in difesa ma... No, 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 il cazzo! Ah, maledizione! Mi hanno fatto fuori talmente tanti uomini, caspita. Non so neanche perché io sto a... maledetti. Perché io sto qui a... a prendere botte. Sono veramente incazzato, ragazzi. Cioè, una cosa del genere... Non ho neanche i soldi per i mercenari ma... Eh, eh, eh! Cosa? Cos'è sta cosa? È finita la guerra? Non riesco a capire. Poi rompi i coglioni che mi scrivono come fai non accorgerti di questo e di quell'altro. Faccio una piccola... sottolineo una piccola cosa prima di salutarvi. La mia prima partita ho 20 ore di gioco. Quindi ringraziatemi che lo sto portando perché piace il gioco e per favore siate pazienti quando non mi accorgo di cosa accade perché non ho bene la cognizione di dove vedere cosa. Grazie per essere rimasti con me. Ci vediamo nel prossimo episodio. Diciamo che la... la parte... Intanto guardate che ha Alberto di Corsica. Oh, maledizione, ha un figlio. Eh, dobbiamo farlo. Dobbiamo far fuori questo figlio cercando di riportare le persone possibili e riportare la nostra... la nostra parente sul trono di Corsica perché non ha senso altrimenti. Va bene, dai ragazzi. Grazie per essere rimasti con me e a presto. Grazie a tutti.